Ciao, sono Roberto Mariani, pilota di Freestyle Jasky, mondo d'acqua, sono campione italiano in carica, mi sono lavorato campione italiano per l'annissima volta e non ho titolo italiano che vinco. Ho vinto 4-5 titoli europei, partecipo al mondiale da 2006-2007, sono sempre classificato tra i primi tre posti. Attualmente sono primo al mondo nel ranking dei piloti freestyle, oltre ad averlo vinto lo scorso anno del 2015. Sono ancora in testa, mancano tre gare, con questa vittoria nel cappello italiano, prendo un po' il largo sul secondo. Sono contento, questa è stata una bellissima manifestazione, ho fatto le mie evoluzioni davanti a un bel pubblico, mi sono cementato nel freestyle con manovre che si chiamano backflip, il giro della morte all'indietro, baller roll, il giro in orizzontale sull'acqua, superman, proprio la manovra come le supereroe di fumetti, e anche il lancio della moto a 360. Mi raccomando, seguite le foto d'acqua, il freestyle in particolare, molto divertente. Seguiteci anche sul nostro sito jet-leluscio.com. Ciao! Ciao!